Tu sei da zitta! Un amico? E' un amico senza allusioni! Un amico intimo! Tu la devi smettere! Ma come facevi a sapere dell'esistenza di questa casa? Io sono la tua segretaria, so tutto! O quasi... Ma comunque sono io che pago le bollette di questa casa! E mentre scuola non fai pagare questa creatura niente di me, ma sei scemo! Ma le paga coi soldi miei! Mamma mia, ma guardi sei insopportabile! E poi sei... 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 ma come ti ha chiesto? Sei banana! Che so? Si banana! Ma che c'è? Ma le cose che fanno tutti quanti! Banale! Mi piace cosa è la banana! C'è la verità! No! Eh! Che sta succedendo? Niente! Ha già visto una femmina nuda? Oh! 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 Oh, io siete... Oh! FE- Oh! Oh.. Oh, bambina! Oh! Oh! Oh.. Mamma mia, questo è il stilista mi preferito! Mohchella! Senti. Ma vuole muschiella, è un moschino? Polic Integrino ma la hai dimenticato? Ombeni! Ombeni! Noi, no! Robert! Robert! Robert Quart ! Tornate se ho serati! Mammina, ma perché non provi a dormire? Non dico suono, c'è uno dito al giardino con una pila a mano che se lamenta, ma chi è? Giulia! E chi è questa Giulia? La mia segretaria! La mia segretaria è tutta la sua! Mammina! Scusa mamma, ma quando c'è la voce faccio... Buonanotte mamma! Non mi ricete niente? Non lo sapevo! Ma che è stato? È Lucia! Rosa, aiutami a lanciare la bambina! Orella, che cos'era quella musica? Niente amore, è Radio Maria, mi chiamé tutte le porte! Lucia! Ma che hai fatto a bambina? Ma chi ha pensato a mammina? E chi l'ha che se ne è fiuta? Ma chi è stato? Ma chi è stato? Ho già visto a uno che si dimenava come una pazza, mi muoviva inanzi quel mappamondo! Ma che aspettò viva? Tondo tondo! No, la faccia! E non ho già trovato a dire guardare la faccia! E Lucia! Vuoi momento buone, andatemi! Andatemi! Andiamo? Sì! Quindi ho già sbagliato a casa? Sì! Mamma mia! E va bene, allora io! Ma non vado! Uuuuuh! Mamma mia! Ecco! Uuuuh! Oh! E ha visto! Mamma mia! Robè, io però ti devo parlare di una cosa importante! Mo' non ne è un momento! Robè, pure io ti devo parlare! Non è il momento nemmeno per te! Ma si può sapere questa chi è? Scusa mamma Grazie, grazie 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 Grazie